Le hanno ricostruito il guscio in 3D e la speranza è di vederla presto tornare libera in mare a nuotare. La tecnologia è stata fondamentale per il recupero di cenere, una giovane tartaruga caretta caretta salvata quattro anni fa dal centro di recupero tartarughe cesta di Marina di Ravenna. Attraverso la tecnologia laser scanner sono stati creati sei gusci artificiali che si sono evoluti per adattarsi alla crescita della tartaruga e alla progressiva guarigione della ferita. Superata questa fase cenere affronta ora una nuova sfida recuperare la mobilità compromessa a causa della lesione vertebrale, riabilitazione che farà in una grande vasca nell'acquario di Cattolica. Cenere è stata recuperata quattro anni fa in balia delle onde completamente spaccata in due e in fin di vita. La sua tenacia però e la sua voglia di vivere ha permesso a cenere di essere recuperata portata a riva e consegnata all'ospedale delle tartarughe di Marina di Ravenna ovvero al cesta. Oggi grazie alla collaborazione con l'acquario di Cattolica possiamo permettere a cenere di provare a tornare a nuotare in un ambiente che gli ricordi completamente quello naturale e questo nuoto nell'arco di quest'anno e questo monitoraggio che noi faremo di cenere ci permetterà di capire se cenere è pronta fisicamente a poter poi tornare in libertà. La presenza di cenere all'acquario di Cattolica sarà integrata nel nostro progetto Salva una specie in pericolo con cui Cost Edutainment sensibilizza e avvicina il pubblico alla conservazione delle specie a rischio. Cenere sarà una presenza importante ed emozionante anche per i visitatori dell'acquario di Cattolica che potranno vederla giorno per giorno riprendere fiducia nell'ambiente che le appartiene.